Obbligazioni corporate o obbligazioni governative? Qual è la differenza tra le due? Risponderemo a questa domanda in termini di rischio, rendimento, costo opportunità. Che cosa state aspettando? Mettetevi comodi. Io sono Luca e questo è Fratelli in Finanza. Partiamo da una semplice assunzione. Che cosa sono le obbligazioni? Le obbligazioni sono uno strumento con cui un emittente chiede dei soldi in prestito ad una platea e lo fa ripagando quel prestito e concedendo un tasso di interesse sotto forma cedolare. Quindi entrambi i protagonisti di questo video, obbligazioni corporate e obbligazioni governative, hanno sotto lo stesso sottostante un emittente, lo Stato o una società che chiede dei soldi in prestito a degli investitori e li restituirà in un determinato periodo di tempo con delle scadenze prefissate, appunto le cedole, a chi le ha comprate. Quindi partiamo dalle somiglianze. Entrambi hanno sotto lo stesso sottostante. E ora quali sono le differenze tra le due? Ve lo dico tra un attimo. Prima iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto, non vi costa nulla. Non smetterò mai di chiedervelo, per me è fondamentale per raggiungere quante più persone possibile. Partiamo subito e iniziamo la nostra analisi in termini di rischio. Che cosa significa rischio quando parliamo di obbligazioni? Quali sono i rischi legati alle obbligazioni? Innanzitutto ci sono dei rischi comuni appunto, sono lo stesso strumento. Il primo ed il più importante è il rischio emittente. Che cosa significa? Colui che emette queste obbligazioni, lo Stato o la società, può fallire. Il rischio dell'emittente è questo, di insolvenza dell'emittente. Se fallisce assumiamo che la mia obbligazione a scadenza debba rimborsarmi 100, mi può rimborsare 50, 25, 0. È da chiarire che le obbligazioni rispetto alle azioni vengono prima. Se una società fallisce ad essere pagati prima ci sono gli obbligazionisti e poi gli azionisti. Ma ci deve essere qualcosa con cui ripagare. Però capite bene come c'è una grande differenza tra i nostri due protagonisti. Le obbligazioni governative hanno un governo sotto. Immaginate il governo italiano, il governo degli Stati Uniti. Lo Stato italiano non è mai fallito. Perché deve fallire ora che io compro delle obbligazioni? È difficile da immaginare nel corso di 3-5 periodi. Qualcuno di voi mi dirà con gli ultimi governi guarda che ci stiamo andando vicino. Non è questo lo scopo di questo video. Però vi voglio dire è davvero improbabile immaginarci che lo Stato italiano fallisca in 1, 2, 3 anni. Stessa cosa non posso dire per le singole azioni. Per carità non significa che ora tutte le azioni debbano fallire. Ma ci sono società che sono più in difficoltà di altre e quindi non mi sento di dire che tutte le società hanno un rischio equiparabile a quello dei governi. No, assolutamente no. Quindi da questo punto di vista c'è una forte propensione le obbligazioni governative. Sono meno rischiose da questo punto di vista. Un secondo rischio è legato al tasso di interesse. I tassi di interesse influenzano il rendimento e la volatilità delle obbligazioni e questo è comune ad entrambe. Un terzo rischio è il rischio liquidità e questo è differente. E cosa significa? Io decido di comprare un'obbligazione. Se questa obbligazione è ben scambiata, ci sono tanti volumi nei mercati, il mio spread tra domanda e offerta sarà veramente basso. Inesistente, come quando compro delle azioni dell'S&P 500 oppure del Fuzzimib. Ma se io vado a comprare un'obbligazione di una società che ha pochissimi volumi e scambiata poco, ci può essere una bella differenza tra bid e nasc. E anche, ancora di più, se io voglio vendere quell'obbligazione non la voglio più, voglio fare un altro investimento. Non sarà così facile come piggere un bottone e vendi quando vendi un'azione. Può richiedere anche del tempo vendere quella obbligazione societaria, quindi occhio, questo è un rischio che dobbiamo assolutamente tenere in considerazione. Ma come facciamo a valutare tutto questo? Con un numero, un dato. Il rischio creditizio, il rating creditizio, ci sono delle società. Le più grandi sono tre essenzialmente americane, Standard & Poor's, Fitch, Moody, che ogni anno indipendentemente valutano il rischio creditizio di tutte le società. E lo valutano con una scala. Prendiamo ad esempio quella del Standard & Poor's, la più famosa, la più semplice. Questa è una scala che va da AA più AD. E che cosa significa? Più si è alto in questa scala, più il nostro rating è alto, abbiamo una bassissima probabilità di insolvenza. Ed ancora, questa scala si divide in due grandi categorie, Investment Grade, Speculative Grade. Da AA più a BB meno si parla di Investment Grade. Cosa significa? La classe creditizia più alta, quella meno rischiosa, ed a questo è di solitamente connesso un rendimento un po' più basso. Le Speculative Grade, quindi le cosiddette obbligazioni spazzatura, hanno un rischio creditizio più alto e quindi vanno da, appunto, BB B-AD. Per esempio, se prendo un'obbligazione Speculative, che ha un rating creditizio di C, non significa che questa fallisca domani, o che questa debba fallire necessariamente domani, ma è più rischiosa di un Investment Grade. E quindi cosa si deve fare? Devo offrire un rendimento più elevato agli azionisti, se vuole che questi comprano il suo debito. Quindi questa tipologia di obbligazione è solitamente connessa ad un rendimento più alto. Le obbligazioni governative e quelle societarie possono entrare in entrambe le categorie. L'Italia, il governo italiano, pertanto così un piccolo step non è diventata un'obbligazione spazzatura. Quindi capite bene come anche gli Stati possano soffrire questa situazione. Ora passiamo a valutare le nostre obbligazioni da un altro punto di vista, quello che forse interessa di più a tutti. Quanto ci guadagno da questa obbligazione? Qual è il rendimento di questa obbligazione? Andiamo a parlare mediamente. Vi metto una tabella qui in sovraimpressione che raccoglie e misure il rendimento dal 1921 al 2021 di tre asset importanti. L'azionario, misurato con l'S&B 500, quindi parliamo di mercato americano, i titoli di Stato e i Bond Corporate. Nel lungo periodo le azioni hanno sovraperformato le altre categorie. Le azioni hanno reso circa il 10% all'anno di media. Per quanto riguarda invece le obbligazioni ci si ferma 4,8% e 6,9% per le Corporate Bond. A noi non ci interessa le azioni, stiamo valutando le obbligazioni. Vedete come tra quelle di Stato 4,8% e le Corporate 6,9% ci sono circa due punti di differenza. Stringiamo il nostro time frame, 1972-2021, l'ultimo quarantennio. Anche qua c'è solitamente una differenza di poco più di due punti percentuali. E' una differenza spiegabile. Parliamo del governo americano. Quando il governo americano è fallito? Chi si immagina che il governo americano possa fallire? Sarebbe un crollo dell'economia mondiale il dollaro a cui tutto è ancorato. Non può andare così in difficoltà. E' davvero inimmaginabile. Quindi hanno un rischio più basso, hanno il rating più elevato solitamente il governo americano. E quindi è normale che renda un po' meno. E le obbligazioni corporate, che invece sono singole, più piccole, sono soggette a maggiori rischi, a maggiori incognite. Quindi questo rendimento in più che hanno avuto le obbligazioni corporate è assolutamente spiegabile. Non c'è niente di anormale. Sta a noi scegliere quello che vogliamo. Vogliamo sacrificare un po' di rischio? Vogliamo assumerci un po' di rischio? Però andiamo a prendere un po' di rendimento. Sacrifichiamo un po' di rendimento per dormire la notte più tranquilli. Terzo punto. Costo-opportunità. Che cosa farei io? Quali tra i tuoi prodotti vado a comprare? Vi dico già da subito che per la mia età e per la mia propensione al rischio preferisco le azioni in questo momento alle obbligazioni. Quindi il mio portafoglio è prettamente azionario in questo momento. Una grossa fetta di azionario. Perché sono giovane. Preferisco appunto prendermi un po' più di rischio per cercare di attrarre del rendimento. Ho anche delle piccole quote obbligazionari che voglio aumentare sempre di più man mano che la mia età aumenta. E nelle obbligazioni quale preferisco? Le governative o le corpore? Se dovessi rispondere a questa domanda guardandomi indietro e pensando agli ultimi dieci anni assolutamente le corpore, ricordatevi quando 4-5 anni fa siete andati in banca e avete chiesto qualche obbligazione e vi hanno detto dammi 10.000 euro e te ne do 9.500. Che cosa? Obbligazioni che rendevano appunto negativamente. Obbligazioni che erano alla pari. Tassi effimeri, inutili. Ora grazie all'inflazione che è tornata a bussare alla nostra porta le obbligazioni governative hanno preso vita. Le obbligazioni societari invece continuano ad essere interessanti ma secondo me non tanto come le governative. Le governative siamo tutti d'accordo che hanno rischio emittente minore. Per esempio il BTP valore sul cui ho realizzato un altro video qualche giorno fa che vi lascio qui sotto in descrizione e qui sopra ha un rendimento per i primi tre anni del 4,1% e per gli ultimi due del 4,5%. Un rendimento già interessante per chi investe dei risparmi. Mentre obbligazioni societari, di società grandi, ENI, Mediobanca, quindi Unicredit o che ho guardato su Borsa Italiana hanno dei rendimenti addirittura più bassi ma capite bene con un rischio emittente più alto e dulcis in fondo. Ultimo ma non ultimissimo la tassazione sui titoli governativi, nello specifico quello in white list, quindi guardiamo bene cosa c'è in white list, ci sono i bondi italiani, questi si pagano una tassazione del 12,5% sia sulle cedole sia sul capital gain, mentre sulle obbligazioni corpore non c'è legge che tiene, non c'è white list che tiene, 26% come le azioni sia sul premio finale che sulle varie cedole, quindi anche questa è una differenza da tenere in considerazione quando andiamo a parlare di rendimento netto. Che ne pensate voi ragazzi? Quali obbligazioni preferite? Le corporate o le governative? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, sono davvero curioso di conoscere la vostra opinione. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima obbligazione. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!